Grazie Stefano, buongiorno a tutti. Io sono Nicola Marighelli, in rettarto il mio occupo di project management e nello specifico seguo i comuni che hanno deciso di adeguarsi alla misura 141. In questa presentazione vedremo appunto la misura 141 finanziata grazie al PNRR, non solo digitalizzazione dell'APA ma personal centro, architettura informativa, le principali novità e i tipi di contenuto, il design kit, layout, oltre ai contenuti legati all'architettura informativa, criteri di conformità, che cose sono e perché esistono. Il tutto con focus sulla scheda servizio perché appunto è uno dei principali content type che viene toccato da queste nuove linee guida che sono di fatto un miglioramento, un'evoluzione delle linee guida precedentemente rilasciate da Agile. Vediamo appunto misura 141 finanziata dai fondi europei ed inserita all'interno del progetto PA Digitale 2026 e prevede un adeguamento delle precedenti linee guida già tuttora in vigore. La misura 141 si rivolge a comuni e scuole ma nello specifico noi come rettarto ci stiamo occupando in questo caso solo dei comuni. Vediamo comunque che la misura va a toccare una platea potenziale di circa 16.000 enti per un totale di 800 milioni di euro di fondi stanziati. Il modello comuni si suddivide in due parti, cittadino informato cioè i siti web per i comuni e cittadino attivo cioè i servizi digitali per il cittadino. Per entrambi diciamo le sottomisure Agile ci dà a disposizione una serie di materiale documentazione. Personal Centro perché lo scopo di questo intervento finanziato dai fondi europei non è legato esclusivamente al concetto di digitalizzazione della PA ma pone appunto la persona al centro. Come ci dice la documentazione ufficiale fornire ai cittadini un chiaro punto di riferimento per trovare con facilità le informazioni di cui hanno bisogno. Uniformità quindi dei layout e delle informazioni compresi i flussi di servizio digitalizzati. Architettura e contenuti. L'architettura informativa definisce di fatto e organizza le informazioni che devono essere inserite all'interno di un sito di un comune. continua e quindi indicazioni sulla gerarchia delle pagine primo, secondo, fino ad arrivare al quarto livello sui tipi di contenuto, sui sistemi di navigazione e sulle tassonomie dei vari content type. Vediamo adesso l'architettura informativa in dettaglio. Abbiamo qui per esempio l'elenco di tutti i tipi di contenuto disponibili. Principali novità sono il punto di contatto e l'incarico. Il punto di contatto è trasversale cioè viene correlato con tutti quegli altri content type che hanno a disposizione dei contatti appunto e l'incarico è legato alla persona pubblica. Rimangono poi validi i precedenti content type come appunto persona pubblica, luogo, notizie, evento, servizio e via dicendo. Vediamo anche la tassonomia che si ricollega ai tipi di punto di contatto per esempio quindi come un telefono o email banalmente o un'unità organizzativa per esempio se politica o amministrativa e viene anche arricchita la tassonomia degli argomenti che di fatto aumenta la rigidità di obbligatorietà con gli altri content type per favorire la circolarità delle informazioni. Questo lo vedremo poi a breve. L'architettura informativa in dettaglio vedete in questo caso questo è un estratto della documentazione ufficiale un file Excel che Agit ci lascia a disposizione online consultabile in maniera aperta senza necessità di login o altro e vediamo che sono indicate per esempio qua due voci di primo livello amministrazione e novità con le voci che devono contenere al loro interno. Vediamo qui invece il grafico dell'alberatura abbiamo a disposizione per esempio le voci di primo livello amministrazione con le voci al proprio interno novità con le altre voci all'interno servizi, vivere il comune una nuova voce che è stata inserita da queste nuove linee guida fino ad arrivare a tutti i link che devono essere presenti nel footer. chiaramente alcuni di essi erano già obbligatori in precedenza come ad altre normative come l'amministrazione trasparente per esempio. Vediamo qui in dettaglio la scheda servizio come potete notare le voci evidenziate sono quelle obbligatorie chiaramente a prescindere dal titolo del servizio che per ovvi motivi deve essere obbligatorio sono obbligatorio per esempio anche lo stato del servizio se è attivo o meno e il motivo dello stato se non attivo cioè se il servizio non è erogabile bisogna specificare il motivo. La descrizione è breve a chi è rivolto proseguiamo per esempio come fare cosa serve, cosa si ottiene, tempi e scadenze sono tutti i campi che adesso sono diventati obbligatori per la scheda del servizio al cittadino. Vediamo questa è l'ultima parte una delle novità sono le condizioni di servizio un pdf da legare a ogni singola scheda. I contatti si ricollega al discorso di prima del punto di contatto è una correlazione appunto con il content type che prevede i contatti del singolo servizio. Vediamo nello specifico adesso cittadino attivo cioè cinque tipologie di flussi di servizio che sono stati individuati per la digitalizzazione. Lo scopo è quello di permettere al cittadino di poter richiedere o anche di svolgere un adempimento verso l'amministrazione completamente in forma digitalizzata. Quindi proseguiamo con la parte legata al layout Figma e template HTML perché appunto anche l'occhio vuole la sua parte Agile ci rilascia una serie di documentazioni legate appunto alla parte visuale quindi viene messo a disposizione tutto un kit di design su Figma e una serie di template HTML completamente free scaricabili e consultabili gratuitamente in maniera completamente aperta. Vediamo nello specifico un esempio di layout Figma questa è una scheda servizio come vedete qua sulla sinistra abbiamo la versione della scheda servizio per il mobile vedete tutti gli elementi che si evidenziano sulla destra invece abbiamo la versione desktop la peculiarità di questa scheda e di qualsiasi altro content type è che ogni elemento è selezionabile quindi è estrapolabile e un designer o comunque uno sviluppatore può estrapolare le informazioni che gli servono per strutturare il template. Questo invece è un elenco dei template HTML che ci vengono lasciati a disposizione e vedete che ci sono varie tipologie anche in questo caso vediamo la scheda servizio quindi questo è di fatto il template HTML che il cittadino dovrà consultare per recuperare tutte le informazioni necessarie per poter usufruire di un servizio rilasciato da un comune. Oltre a questo ci sono anche delle specificità tecniche legate ai layout per esempio viene richiesto l'utilizzo della libreria Bootstrap Italia 2.0 superiore o per esempio l'utilizzo di alcuni font per i paragrafi e i titoli. Uniformità dei contenuti dei layout quindi per quanto riguarda la nuova architettura informativa e le linee guida non si parla solo di contenuti ma anche di layout. Questa uniformità a livello nazionale aiuterà quindi il cittadino ad entrarsi meglio nella ricerca delle informazioni ed usufruire di tutti quei servizi che possono essere digitalizzati. Tutto questo viene poi ulteriormente arricchito dalla circolarità delle informazioni che vedremo a breve con gli argomenti. Appunto aggregazione di contenuti la circolarità delle informazioni è sempre stato un valore di rilevanza e favorisce la navigazione del portale ma soprattutto aumenta la reperibilità dei contenuti al suo interno. Nell'architettura informativa aggiornata non a caso troviamo delle indicazioni molto precise riguardo alla relazione tra i tipi di contenuto ma vediamo perché gli argomenti sono diventati così importanti. Gli argomenti sono di fatto un elemento aggregante cioè servono a connettere in maniera trasversale tutti i content type e grazie a una tosonomia ben precisa sarà quindi possibile taggare vari tipi di contenuto con uno o più elementi in maniera completamente trasversale. Le nuove linee guida ne definiscono l'obbligatorietà per alcuni tipi di contenuto. Vediamo qui l'elenco che Agile ci rilascia della tassonomi argomento questo è l'elenco ufficiale da utilizzare poi per la pubblicazione sul sito web non sono chiaramente da utilizzare tutti c'è un criterio di verifica che poi ne prevede un utilizzo dal 50% come soglia di tolleranza. Vediamo poi che ci viene data la possibilità di utilizzare un ulteriore elenco aggiuntivo nel portale Eurovoque anche queste sono tutte voci che anche se non presenti nel file Excel visto poco fa sono utilizzabili senza correre il rischio di non validare il criterio di verifica. Vediamo qui invece dove sono di fatto diventati obbligatori gli argomenti sono obbligatori per le notizie gli eventi servizi e documenti pubblici sono facoltativi invece per l'unità organizzativa i luoghi e le pagine informative standard. Vediamo qui un esempio di aggregazione di argomenti con gli argomenti di una notizia vedete questa notizia è associata all'argomento famiglia qua adesso siamo nella pagina famiglia vediamo che qua troviamo per esempio tutte le notizie collegate all'argomento la sezione amministrazione servizi e documenti dati queste sono tutte informazioni che trasversalmente sono collegate dall'argomento famiglia i criteri di conformità che cosa sono e perché esistono di fatto i criteri di conformità ci guidano alla corretta adozione del modello praticamente è una checklist da controllare per poter poi richiedere l'asseverazione e di conseguenza ottenere i fondi europei ci sono 20 criteri di conformità per la parte cittadino informato e 18 criteri di conformità per la parte cittadino attivo questi criteri sono loro volta suddivisi per esperienza utente funzionalità normativa performance e sicurezza vediamo qualche criterio di conformità in dettaglio per esempio questi sono legati all'esperienza utente si collegano poi alle specificità tecniche che abbiamo visto prima quindi l'utilizzo di Bustrap Italia e le librerie e i font Google Font per paragrafi e titoli vedete il primo il CSI 1.1 coerenza dell'utilizzo del font il secondo le librerie di interfaccia di elementi di interfaccia vediamo un altro criterio questo è legato alle funzionalità alla prenotazione appuntamenti elemento molto importante in queste nuove linee guida perché viene richiesto ai comuni di dare la possibilità ai cittadini di prenotare degli appuntamenti online tramite un sistema di gestione appunto di appuntamenti di booking il secondo criterio che vediamo qua invece è legato alle domande frequenti bisogna prevedere obbligatoriamente una sezione all'interno del sito web dove raggruppare tutte quelle domande frequenti che solitamente i cittadini pongono a lente quindi i criteri di conformità hanno vari esiti di giudizio il primo è chiaramente fallimento cioè il criterio non viene superato il secondo se previsto è la tolleranza cioè ci viene dato un margine entro cui possiamo rientrare per superare il criterio anche se non è al 100% rispettato non tutti i criteri lo prevedono chiaramente il terzo esito è il successo ovvero il criterio viene superato al 100% chiaramente per ottenere la validazione di tutti i criteri cioè della misura e quindi ottenere il finanziamento bisogna rientrare nella tolleranza dove è previsto e successo in quei criteri dove non è prevista tolleranza non solo contenuti ma anche lo strumento da utilizzare è importante quindi per rispettare tutti i criteri di conformità non è sufficiente andare a rivisitare l'architettura informativa e revisionare i contenuti e i layout ma è necessario utilizzare un CMS che risponda anche a questi requisiti tecnici per eseguire le verifiche verrà poi utilizzato un toller automatico che per funzionare necessita di particolari elementi HTML quindi sono poi necessari ulteriori accorgimenti lato tecnico questo però lo vedremo nel prossimo intervento che casualmente sarò sempre io a portare avanti intanto vi ringrazio grazie per avermi ascoltato a fra poco grazie per avermi ascoltato grazie per avermi ascoltato